Ups a tutti, 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 i miei cari upsini e upsine Come, come, come state? Grazie mille per aver aperto questo video, per voler passare un po' di tempo insieme a me Io oggi cosa farò? Un video dove voglio ovviamente farvi rilassare e addormentare E credo veramente che questo possa essere uno dei più rilassanti Quindi, indossa subito cuffie o auricolari E stenditi sul letto, sul divano, dove vuoi E prova a chiudere gli occhi Sì, 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 sì Io, come sempre, qua ho preparato un po' di trigger che voglio assolutamente fare per voi Quindi, il primo è questa borsa pochette bianca e vuota Ciao 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 Grazie a tutti. 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 Ok. Ok. Grazie a tutti. La... Ora un poco le mani. Toco... 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 occhi... occhi... e sopra... e sopra... e sopra... ho poi... ho preso... ho preso... e... 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 interessante come trigger... Mettiamolo... ... via... Lo scocci mi sempre piaciuto Quindi la faccia di un pochicino E' sottotitoli E' sottotitoli E' sottotitoli E' sottotitoli E' sottotitoli Grazie. Ho le mani tanto sticchi stasera. Adesso ho qui con me due cucchiaie. Innanzitutto per fare un po' di scratch scratch scratch. Scritch. Scritch, scratch, scratch. Scritch, scratch, scratch. Scritch, scratch, scratch. Scricci, scricci, scricci Scricci, scricci, scricci Perfumare un po' di Anche perché mi sa di essere l'unico che non sa fare questo suono Non lo so come mai Scricci, scricci, scricci Scricci, scricci, scricci Scricci, scricci, scricci Scricci Non lo so Per concludere ho preso una cosa Che mi rilassa un sacco Queste due palline da dentro il potpourri Non so esattamente cosa siano ma Perché la bergge Suore lekkis Non so esattamente cosa siano ma Non so esattamente cosa siano ma Un sacco Si o non so è un calcino Va bene Qualcino Ve nazis più lunga più lontane 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 2 5 2 Perfetto, io quindi credo proprio sia giunto il momento di dire co 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 co, ora tocca a te, iscriviti al canale, se sei nuovo, se non l'hai ancora fatto, per entrare a far parte della Ups community, lascia un like, un bel commento se hai un pochino di tempo, e niente, il video di oggi finisce qua, però se tu vuoi stare ancora insieme a me, io ti lascio, qua il mio video precedente, qua una mia playlist e qua il tasto per andare sul mio canale a vedere tutto quello che vuoi, video e short, io ti mando un grande bacio, buonanotte Buonanotte